Una serata importante a Rogno, una serata dedicata ai riconoscimenti. Qual è il significato di questo momento che avete vissuto insieme al Paese? È un momento per dire grazie a chi si impegna veramente tutto l'anno per la nostra comunità, a partire dai tre gruppi pluggers che abbiamo premiato questa sera per passare a due eccellenze dello sport, perciò la Bocciofila Junior che quest'anno è diventata vice campione italiano e Andrea Surini che è un nostro giovanissimo campione delle due ruote che nell'enduro negli ultimi anni sta veramente arrivando sempre ai primi posti nei titoli regionali e italiani. E poi abbiamo dato dei riconoscimenti a delle associazioni che raggruppano una fetta importante della nostra cittadinanza perciò insieme a Razom che si occupa di Ucraina, perciò sia di ucraini residenti in zona, profughi provenienti dalla guerra oppure anche di progetti mirati all'Ucraina in zone di guerra, dopo Anur che è l'associazione che raggruppa molti musulmani e abitanti provenienti dal Nord Africa e Lijan Italia che è l'associazione che raggruppa gli abitanti nelle nostre zone provenienti dalla Bosnia e Herzegovina. Perciò delle realtà che raggruppano il 14% dei cittadini di Rogno e dell'Alto Sebino, delle realtà importanti che hanno sul nostro territorio tante iniziative e che sostengono l'amministrazione comunale sia nei progetti di solidarietà verso le famiglie fragili sia anche nel controllo del territorio e dei cittadini. Abbiamo avuto l'onore questa sera di aver avuto degli ospiti eccellenti, perciò un euro parlamentare Marco Zanni, Rebecca Frassini dalla Camera dei Deputati, Roberto Anelli dalla Regione Lombardia, Fabio Ferrari dal Consiglio della Provincia di Bergamo e in più il console di Bosnia e Herzegovina di Milano in Italia. Perciò veramente un parterre importante il preside Nico Rinaldi oltre ai consiglieri comunali e tante altre persone che hanno dato lustro questa serata hanno dato importanza ai nostri giovani che hanno avuto modo di vedere, rifacendoci alle parole del Presidente Pertini, hanno avuto modo di vedere degli esempi e non solo dei sermoni, perciò delle persone che dalla provincia di Bergamo rappresentano la nostra comunità in tutto il mondo veramente e per i nostri giovani sono da stimolo per il loro futuro, per la loro crescita sia nel mondo del lavoro e chissà magari un domani anche nel mondo politico. Una serata dedicata anche alle borse di studio, avete voluto riconoscere l'impegno dei vostri ragazzi? Ebbene sì, Ronio, tutti gli anni è fortemente vicina ai nostri studenti, alle famiglie e a tutto quello che è il corpo docenti. Quest'anno abbiamo premiato più di 60 ragazzi con un investimento di 13.500 euro distribuiti dalla prima elementare fino alla magistrale. Il Comune di Ronio è sempre molto attento a questo tema proprio per l'investimento sul futuro. La serata è stata allietata anche dalle note dell'Associazione Culturale Valle Camonica grazie alla nostra Ilaria Giorgi che è un'eccellenza della musica del nostro Comune e ha reso veramente estremamente piacevole il tutto.